Ciao Xenia, come è stato interpretare questo ruolo? La foresta di ghiaccio, un ambiente, il trentino, bello tosto, mi sta? È stato molto impegnativo ma è molto bello, questo posto è veramente unico, molto bello, molto severo, sembra perso nel mezzo nulla e ci ha creato un'atmosfera bellissima in film. Grazie a tutti.